Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come diminuire i ping su fortnite ovviamente ora sto con la connessione wifi potete anche provare a fare un test per vedere quanti ping fate proprio in generale non solo su fortnite quindi in descrizione vi ho lasciato questo comando da inserire sul prompt dei comandi per vedere quanti ping fate chiudiamo un attimo cmd io adesso riapro cmd prompt dei comandi e faccio esegui come amministratore lo apro prendo quel comando che ho lasciato in descrizione faccio copia e incolla facendo ctrl v eccolo qua e faccio invio e così facendo mi dirà quanti ping faccio ok eccoli qua minimo 19 massimo 22 millesecondi perché sto con una connessione wifi se adesso vado su impostazioni rete e internet impostazione di rete avanzate più opzioni per la scheda di rete disabilito la mia wifi e abilito così il cavo ethernet che è il cavo lan attaccato alla scheda madre al modem di casa mia abilito come puoi vedere i ping sono diminuiti di qualche 2-3 ping minimo 17 massimo 18 e medio 17 ti faccio vedere questo per farti capire che è meglio il cavo lan che la connessione wifi quindi giochi meglio a fortnite con un cavo ethernet quindi chiudiamo qua e adesso provo a fare questo metodo su come diminuire i ping su fortnite provo a fare così impostazione rete internet impostazione di rete avanzate più opzioni per la scheda di rete andiamo su ethernet proprietà scendiamo fino a giù c'è questo protocollo internet versione 6 voi dovete disabilitarlo se è disabilitato allora è un bene quindi disabilità mi raccomando non disabilitare il protocollo internet versione 4 se no la connessione non va disabilitate così questo protocollo e facciamo ok e riavviate il vostro sistema io ora vado a fare di nuovo questo test per non parlare anche delle applicazioni che ho avviato tipo anche epic games che sta scaricando un gioco ok questi sono i ping cioè il sito dice 46 io in generale ne faccio 18 e adesso non ci resta che vedere su fortnite quanti ne faccio ed eccoci qua su fortnite non ci resta che andare su impostazioni su questo pannello se lo trovo sta da questa parte questo pannello delle interfacce scendiamo fino a trovare questo statistiche di debug effettive faccio applico e come puoi vedere in alto a sinistra troverai i ping il download e l'upload del gioco e faccio intorno ai 45 ping con il cavo LAN ok io adesso provo come puoi vedere i ping sono aumentati perché sto navigando un po' in giro io proverei un attimo a chiudere tutti i programmi di discord, chrome, tutto quello che avete aperto e come puoi vedere i ping stanno diminuendo non si può neanche fare un test qua 39 ping anche nella sparatore ok ok questi sono poti sicuramente ma sono poti ormai fortnite ti mette i poti nelle partite ottimo questo mi guardava ping 35 39 ehi ragazzi il video finisce qua spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida lasciate like, iscrivetevi in noi ragazzi e ci vediamo nel prossimo tutorial ciao ciao